MEKANARUTO-KUN è colpa nostra mi sa eh non vorrei di nulla però mi sa è colpa nostra io non l'ho fatta a posto sinceramente che facciamo? merda colpa nostra ok perchè? oh i kiubi quindi kurama quindi quella è la parte buona ah ok che brutta cosa ah wow perfetto forse può darsi ok quindi dobbiamo aiutarlo in qualche modo vero? ok ci andrò io andiamo si si non posso farci nulla andiamo Naruto Naruto andiamo a salvarlo vai può cambiare maestro ok andiamo a trovarlo ragazzi sto arrivando mekana ruto sto arrivando a salvarti tu non devi andare via non preoccuparti ok devo trovare un attimo mekana ruto sarà un'impresa ardua ho detto in effetti che durava un bel po' sta storia in effetti oddio siamo da circa un'ora e passa tipo per sta storia mekana dove sei? ok dobbiamo fare attenzione a non farci beccare ragazzi allora ci vogliono prendere? ok lasciamo la foglia so come lasciare la foglia tranquillamente ok andiamo da questa parte così arriviamo prima non è un problema non è un problema più infine tanto ci arriviamo comunque dovrei avere qualche biato alla lotteria no penso di no si probabilmente non ne ho ok andiamo fuori dalla foglia usciamo dalla porta principale che è la cosa migliore Naruto Inato che vuoi? oh dove? ho l'isola del festival è proprio da lì ok andiamo 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 sei sicura? andiamo andiamo in attacco ok però io mi sa che salvo qui ragazzi ok allora vediamo un po' eh questa è l'isola ok l'isola strana è abbattato fin qui ci eravamo arrivati ok andiamo a picchiare meccanaluto si si lo salveremo probabilmente forza non preoccuparti adesso fino a lì dobbiamo andare bel problema ok io salverei in attimo perfetto salva ok perfetto andiamo a salvare il nostro meccanaluto vai mecca sto rispondendo da te cioè almeno non picchiare la gente ti picco soltanto io stavo a posto non sono rimpazzata sopra che brutta cosa da dove è? mi sa di qua ragazzi oh dio uno è stato picchiato l'altro è stato picchiato wow è così forte questo meccanaluto non posso passare di qua vero? ah merda devo fare il giro di qua allora ok questa parte non l'ho vista comunque non se c'è stato da qui eeeh dove devo andare scusa l'altra parte non posso andare eeeh le strade sono quelle non è che dice che ce ne sono tante ah di qua è vero c'è un'altra strada che porta comunque di lì vediamo un po' dobbiamo fare il giro tutto dell'isola wow ci vorrà un pochetto oh eeeh salve noi dobbiamo andare a combattere quello però mi sa ok userò la forza no proprio mi picchierò a sangue ma di brutto anche tanto vabbè ormai mi ho piccato tutti quindi picchiamo anche loro yeeeh fa sì le oggetti non mi servono diciamo tanto cioè le usano tanto lì per prigio perché a me non piacciono usare gli oggetti anche se sono molto utili se facciamo un competitivo competitivo si usano gli oggetti per varie cose sono abbastanza utili anzi ho visto tipo la gente che combattere in modo assurso ragazzi io non potrei mai farcela ok no no con la cosa vai fermo un attimo aia aia contraattacco su stronzo dario ai dario ragazzi questo è forte muori stronzo prendi un po' di botte aia ok mo' lo colpo lo picchiamo uuuh bam ti piace con Rasengan in faccia aia aia ma sempre ce l'hai oh oddio tipo difesa così mi piace però ah ma è potenziato c'ha il cuore c'ha Rasengan bam tecnicia suprema legame uuuh aia aia ma che lo becchiamo son stronzo dai ok tecnica suprema legame ragazzi vediamo un po' uuuh stereosfera uuuh uuuh ok non lo uccido da lui probabilmente ma dai che culo lo ribecco adesso tranquillo uuuh uuuh bam beccato ok vediamo un po' cosa mi da non mi da niente stereosfera bam aia 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 ok solo per quella pochissima vita ho dovuto fare la mossa finale ma chi se ne sbatte se prende S probabilmente non prende ah è vero ce l'ho inata io cavolo non me ne sono accorto scusa inata so che sei inutile però scusa è che avevo preso una A probabilmente non ho ancora S però da lui è fortissimo cacca come si è messo così va benissimo c'è la modalità difesa e OP e OP è stato uno dei più difficili scontri che abbiamo mai giocato mmm ma il bot ogni tanto è forte ragazzi non preoccupatevi potete trovare questi incontri strani e potenti ok siamo pronti a combattere ancora che forza da lui per favore io sono più forte di te cioè voglio ammettere cioè ok eeeh fumo 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 doveva andare da questa parte presumo sempre dritto o di qua forse secondo me sta qua ragazzi eh ah no non era di qua ok dall'altra parte quindi perfetto di qua dobbiamo andare eh dai però poi dobbiamo combattere l'altra gente due eh si due kage perfetto perchè devo compiere pure le kage dai ah mitsukage l'altro kage non mi ricordo il nome e ecco oggetti devo devo mangiare qualcosa eeeh attacco minimo difesa minimo difesa minimo niente spesa corda più energia al massimo facciamo questo va ah è vero sono diversi è vero non li devo comprare dall'altra parte iniziamo a battaglia va combattiamo picchiamo tutti ragazzi oh un'occhi ecco un'occhi ma non ricordo come si chiama come si chiama l'upe che si le frega ah il mitsukage come support ah sembra il problema ok è qua stronzo questo è lentissimo ragazzi una cosa assurda posso piccarlo come voglio prendi botte stronzo muori male anche bijudama dovrebbe avere pure una difesa molto bassa quindi danno ne faccio ha voglia che ne faccio ah merda quanto l'odio quella cosa prendi botte prendi botte vai che prendi botte prendi botte prendi botte oh quanto mi piace quella cosa rasengan entrambi stronzi non farei mai una mossa stronzo manco ok inata a te la mossa finale bam grande inata ragazzi le tattiche di ulisse inata c'è 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 eh sè perfetto via mi faccio di così quella è lentissima ragazzi attaccare tipo una cosa mostruosamente brutta da usare infatti non la uso mai quel personaggio perché fa schifo abbastanza ok ok e anche questo è andato io sto andando davvero un sacco sono da un'ora che sto registrando ragazzi sei minuti mi spavento nooo questa è la mia forza si sono potente ok andiamo a battere finalmente sto meccanaruto ragazzi dai ok non penso sia così difficile beccarlo eh da questa parte dovrebbe essere dove abbiamo incontrato una volta ah ecco perché ho andato a fare il giro no non veniva da qua e dove è che veniva ah da qui sopra probabilmente ok dovrò passare di qua da questa parte si penso di si vediamo un po' si era qua ok fermo eh dai però ma perché non ve ne andate sono dei inutili oddio ha un nome il reikage davvero che nome c'ha la mia battaglia eh reikage sarà un bel problema quello è potente quello non è veloce ma è potente vai è un po' veloce lo è e mi fu nel primo ai ai ci chiamo ai y ma vabbè non chiediamoci il motivo di certe scelte di nomi sto davvero con queste scelte e leikage ragazzi è abbastanza lentuccio come è il personaggio un po' di botte li prende però mi è arrivato già un botto che forte muori dai kagawa prendi botte ti è piaciuto? a lui mi deve essere i svegli mi piace di più i svegli ragazzi ma mi piace questa cosa che puoi scegliere varie cose non solo di sveglio puoi scegliere anche la mossa finale tipo strana eh? è una cosa ottima 70 colpi ho fatto e ora non puoi difenderti più stronti ok prendi botte stronti uuuh rasengan non l'ho preso? mossa finale bam beccato la mossa finale ragazzi eh eh che figata bishudama bishudama uuuh 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 e basta con la cosa capito capito la gente si fida di te ma non farmi vedere sempre soffilmato ah innate vedo che ci saremo bam non ci so una bella essere nessuno me la leva qua andiamo un po' una essere si una essere foce eh lo ha dato infatti ok andiamo a precare quel piccolo amichetto lì che decidi di scappare via Amichetto non scappare via Aspettami Dammi un secondo Ok Che lo faremo? Beh Se arriva qualcun altro Aspettate Uccisi tutti Beh Quanti cagli li uccisi tutti Eh no Mi manca ancora tipo Fare altre cose Aspettate comunque salviamo adesso Ok Mi mancano ancora È il Lokage È l'unico è rimasto Ok il fumo deriva da qua Veniva Perfetto Ora presumo ci sia Lokage È forte Ma dai È scarso Andiamo Andiamo Ok Quindi stai lì Mecanotokun Non devi fare così Cioè Non fare lo stronzo Ho capito Ma non rompere Mecanaruto Picchieremo tutti Tranquillo Non No No Grazie per la visione!